buongiorno amici rc fishing boat milano come promesso oggi siamo qua per vedere alcuni dettagli del nuovo radiocomando che equipaggia per il 2020 i modelli zeus e i modelli rc1 allora questa è la nuova radio con bene o male gli stessi pulsanti quello che ha cambiato il firmware ora andiamo accenderla e vediamo i cambiamenti teniamo premuto il tasto on per qualche secondo il radiocomando va subito nella schermata principale accendiamo il backlight così da vedere tutto quanto allora adesso sentiamo un allarme perché mi dice che la barca non è connessa quindi togliamo il il sonoro per connettere la barca quando vi arriva non c'è bisogno di far nulla basta solamente accenderla nel caso in cui vogliate cambiare un canale adesso vi facciamo vedere la procedura quindi in buona sostanza in base al tipo di batteri che voi avete prima di accendere la barca selezionerete tramite il nuovo menu il tipo di batterie che avete installato litio oppure piombo quindi batterie barca in questo caso noi abbiamo messo le litio lasciamo le litio e gli diciamo ok perfetto dopodiché andiamo nella connessione barca quindi per connettere la barca con il radiocomando in un canale diverso perché magari ci sono più di uno zeus in giro nel lago in quel momento basterà selezionare connessione barca vado a selezionare connessione barca ho nove canali disponibili quindi selezionerò il canale 5 in questo caso potete selezionare però il canale che che volete gli do lo start quando dopo che gli do lo start metto su on la barca il radiocomando è nella fase di ricerca canali quindi attendiamo qualche secondo fino a quando non si binderà con la barca e il canale verrà memorizzato le luci lampeggiano le luci della barca lampeggiano sul radiocomando mi viene fuori il collegamento della radio avvenuta posso uscire dal da questo menu perfetto benissimo adesso la barca è collegata proviamo a fare un test vedere se i motori vanno io non so se li sentite o meno è probabile che non li sentiate perché come avevamo accennato nel precedente video i motori sono silenziosissimi provate a sentire un po quasi non si sentono allora adesso siamo nella schermata dell'eco scandaglio chiaramente non funziona e mi dà dei dati che sono assolutamente non corretti perché la barca chiaramente non è in acqua la morfologia e le sfumature dell'eco sono state migliorate assolutamente il come si chiama il down button quindi il dettaglio grafico assolutamente nuovo il nuovo sonar emette più impulsi per cui emettendo più impulsi mi dà una rilevanza del fondale che è sicuramente molto più precisa e veritiera allora adesso vediamo tutte le nostre funzioni quindi nel menu standard noi abbiamo l'icona quella potete vedere con la barca e il simbolo della batteria quindi mi dice a che stato sono le batterie della barca si sono cariche o scariche le batterie del nostro radiocomando che in questo caso abbiamo due tacche perché l'abbiamo utilizzato parecchio il numero dei satelliti alla quale collegata al momento nessuno perché siamo all'interno dell'azienda quindi non prende il gps il la potenza del segnale quindi maggiore sarà e maggiore potremmo andare distanti vedrete che però con la nuova configurazione e la nuova antena integrata a una super a un super range d'azione dopodiché abbiamo il fondale inteso come i metri la temperatura a 16 gradi l'icona della barca dove sono scerati praticamente il ops allora dove sono scerati praticamente lo stato dei vani pastura dei vani terminale delle luci quindi adesso proviamo accendere le luci vedete che me lo segna che le luci sono accese rischiaccia di nuovo e si e si e si tingono di nero apriamo i vani pastura si apre il primo e mi mi dice che si è aperto il primo apro il secondo mi dice che si è aperto il secondo li ringaggio stessa cosa per i scusate i questi erano i rilasci terminale i vani pastura quindi uguale apro il primo mi dice che si è aperto il primo attendo qualche secondo quando smettono di lampeggiare le luci apro il secondo e ok e qua mi viene comunque segnalato che secondo aperto dopodiché dopo qualche secondo quando le luci hanno smesso di lampeggiare posso richiudere i miei vani pastura e il ringaggio perfetto qui abbiamo la bussola quindi è la direzione che la barca ha in fase di navigazione oppure anche da ferma i metri che ho percorso e lo status del della navigazione quindi in questo caso è ferma se io lo faccio andare vedete che cambia adesso la sto pilotando manualmente quindi manual oppure se gli dico di andare in automatico la barca andrà in linea diritta seguendo la direzione della bussola mi raccomando non la direzione del della barca ma della bussola sentite i motori che vanno e qui cambia l'icona in auto in metri siamo a zero perché non è collegato il gps quindi la barca non sta percorrendo metri perfetto accensione e spegnimento della luce di backlight tasto on off per confermare spegnere radiocomando il tasto del del sonoro quindi mi attiva e mi disattiva il sonoro in qual caso non ci siano satelliti oppure la barca perdesse segnale o altre motivazioni quindi segnali di errore andiamo a vedere il secondo menu che forse quello più interessante allora come potete vedere qui praticamente abbiamo la la home position che che lampeggia e dove deve essere memorizzata quindi siamo passati da 9 punti memoria a 30 punti memoria dallo 0 1 al 6 dal 7 al 12 dal 13 al 18 dal 19 al 24 dal 25 al 29 sono parecchi rispetto a prima sotto abbiamo le coordinate gps della barca le coordinate gps della posizione home poi anche qua abbiamo sotto il tempo di navigazione bussola e altri comandi della barca io da qua praticamente gli vado a impostare esattamente tutto quindi gli posso dire di memorizzare il punto 1 il punto 2 il punto 3 il punto 4 e via discorrendo li cancello li memorizzo e poi li posso chiaramente utilizzare per andare a destino adesso non possono essere memorizzati perché vedete il numero dei satelliti non c'è ma è solo per farvelo vedere per ripassare alla funzione del dell'eco scandaglio basta rischiacciare questo pulsante e si cambia menù allora quando siete nel menu del del gps chiaramente l'eco non serve perché prima andrete a scandagliare vi andrete a memorizzare i punti quindi non serve avere il dettaglio grafico del del fish finder mentre memorizzate utilizzate la barca in gps allora torniamo nel menu normale andiamo a vedere le varie funzioni del menu quindi abbiamo setting bussola radio serve per settare la bussola del del radiocomando all'interno del radiocomando stesso il movimento da fare per il setting è questo ok molti ce lo chiedono ed è questo qua una volta che si si dà l'impostazione poi abbiamo il setting bussola barca quindi vado all'interno di questo setting premo il tastone adesso non lo faccio perché la barca non è in acqua deve essere in acqua e la barca in autonomia registrerà la bussola qualora magari fosse smagnetizzata poi abbiamo l'eco scandaglio questa è la potenza del dell'eco ok che si come si seleziona in base al tipo di acqua che c'è all'interno del nostro del nostro lago quindi più o meno torbida più o meno limpida in base a quello il setting va può essere potenziato oppure diminuito poi abbiamo le batterie della barca come abbiamo visto prima che possono essere cambiate da litio a piombo la connessione della barca e il tasto exit per per uscire perfetto quindi questo è tutto per quanto riguarda le impostazioni quindi il tasto set per memorizzare i punti gps il tasto go per partire il più e il meno per cambiare le opzioni sul gps il tasto esc per diciamo stoppare quello che è la navigazione tutto qua molto molto semplice velocissimo molto intuitivo adesso vi faccio risentire i motori perché sono veramente super silenziosi ok un'altra cosa ecco per cambiare alcune impostazioni all'interno del del dei setting allora diciamo che queste sono le impostazioni standard ok quindi è il menu diciamo standard io posso andare a variare il menu standard andando a modificare alcuni parametri che in questo caso però non non serviranno ok quindi diciamo così allora come vedete la lista del menu si è allungata quindi oltre al menu exit abbiamo calibrazione del joypad serve quando magari la barca non va perfettamente diritta o magari il joypad prende un colpo quindi la direzione avanti non è proprio avanti la barca tende ad andare da una parte o dall'altra il modello barca che non va toccato l'unità di temperatura che potete cambiarla con i gradi oppure fahrenheit unità di distanza lingua potete selezionare inglese oppure italiano ok e poi uscire quindi una volta che sono qua tengo premuto e mi riporta al menu normale perfetto così per uscire altre impostazioni prima abbiamo visto un'altra impostazione che è quella della regolazione dei motori però non fatela perché rischiate di sballare il setting originario della barca quindi diciamo se dovete andare a modificare qualsiasi parametro lo potete fare però utilizzando il menu quello amplificato non utilizzando la regolazione dei motori che sarebbe questo ritornando qua ritengo premuto la freccettina in basso ed esce perfetto usciamo dal menu basta direi che è tutto per questo radiocomando super semplice se poi avete qualsiasi delucidazione oppure informazione aggiuntiva potete dare una letta o al manuale d'uso che è all'interno di tutti quanti i nostri prodotti oppure contattarci direttamente se vi è piaciuto questo video mettete pure un like iscrivetevi al nostro account di youtube così per qualsiasi aggiornamento rimarrete sempre aggiornati ciao a tutti ci vediamo alla prossima